Benvenuti da Carlo Roscito all'Atahotel Executive di Milano, mancano poco più di tre ore alla fine del calciomercato. La Lazio che cerca di puntellare la propria rossa a disposizione in alcune trattative in entrata, l'Axalt centrocampista uruguaiano che molto interessa la società biancoceleste però sembra aver trovato l'accordo con l'Inter però a partire dal mese di luglio, altra trattativa caldissima, il nome caldo è quello di Felipe Anderson. La Lazio sta trattando il giovane talento del Santos però ci sarebbero degli intoppi soprattutto per quanto riguarda il costo, la valutazione del cartellino del brasiliano, mancano ormai pochissime ore alla fine del calciomercato quindi una trattativa in salita quella tra Lazio e Santos. Lazio che però si sta concentrando soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita, il giovane Crescenzi è passato dalla Nocerina al Viareggio e poi la Lazio sta cercando di piazzare quei calciatori in esubero come Sculli, Foggia e Zauri. La Lazio sta cercando di piazzare questi calciatori al Pescara. Alessandro Moggi, procuratore di Sculli, sta cercando di convincere il calciatore ad accettare la società abruzzese magari rinunciando a delle mensilità con la Lazio. Mancano poche ore, vedremo se ci saranno degli sviluppi in questi ultimi istanti di calciomercato. Dall'hotel Atao Xecutive di Milano è tutto. Linea allo studio.